Sono tante le storie, sono tante appunto da quelle più intime, familiari, famiglia, maternità, intimità, al guardare dentro se stessi e poi ci sono storie del mondo, si parla di Guantanamo, si parlano dei nativi americani, si parla di la paura, la mercificazione della paura negli Stati Uniti, si parla delle armi nucleari. Foto giornaliste, artiste e documentariste che raccontano la contemporaneità e la fotografia al femminile, la protagonista dell'ottava edizione del Festival Internazionale Corton on the Move. Dopo un anno pieno di eventi politici, economici, sociali che riguardano anche spesso i diritti delle donne, abusi, equità salariale, eccetera, in tutti i campi, ho ritenuto opportuno dare un segno anche all'interno del nostro piccolo mondo, che è il mondo della fotografia, della fotografia documentaristica. Quindi ho fatto una scelta proprio di fotografi e professioniste che lavorano nel campo, artiste, fotogiornaliste che raccontano storie di oggi e sono donne che non raccontano solo storie di donne, perché spesso si parla dello sguardo femminile, sensibilità femminile, invece a me interessa proprio far vedere che sono professioniste, come tutti gli altri, che lavorano sul campo, dalla guerra alle cose storie più intime e familiari. Come ogni anno le decine di mostre saranno dislocate tra il centro storico cortonese e la fortezza del girifalco, sino al prossimo 30 settembre. Nel mondo succedono sempre tantissime cose, la comunicazione contemporanea è fatta di fotografia, video, social media. Il nostro scopo è quello di riuscire a mettere insieme tutti questi linguaggi, a vivere dove le cose succedono e quindi a trasformare il festival in una sorta di autoparlante di quello che succede nel mondo, attraverso le immagini perché è il nostro linguaggio. Novità di questa edizione è il nuovo spazio all'interno di Palazzo Venuti in via nazionale che ospita la sezione del festival dedicato ai video sperimentali, installazioni ed opere transmediali. Poche parole, un lavoro fotografico può diventare anche un'opera d'arte, può diventare un romanzo, quindi la stessa storia si può raccontare su diverse piattaforme e quindi anche arrivare a pubblici molto diversi, che è quello che ci interessa, che le storie si raccontano e vengano sentite.